Situazione davvero a rischio per la Mabo SPA, la storica azienda di prefabbricati con sede a Ferrantina nel comune di Bibbiena. Il Tribunale di Arezzo ha infatti revocato l'ammissione al concordato preventivo e fissato al 25 novembre l'udienza per decidere sullo stato di insolvenza dell'azienda, aprendo la strada alla procedura di amministrazione straordinaria come previsto dal decreto legislativo in materia del 99. Questo non dovrebbe intaccare l'accordo fatto tra la società e l'imprenditore di Vicenza Marco Manca a cui è stato affittato un ramo di azienda, procedura che dovrebbe portare all'assunzione nella nuova società di 69 lavoratori entro il 2013, comeppure entro il 2013 sarà costituita una società collegata nella quale saranno assunti altri 10 tra autisti e montatori. Tra gennaio e giugno 2014 i lavoratori assunti da Mabo Group dovrebbero salire a 113 lasciando fuori 140 dipendenti che dovrebbero rimanere in mobilità. Tutto si saprà probabilmente il giorno dell'udienza, fissato come detto il 25 novembre.